Ciao a tutti, bentornati nella rubrica dedicata ai drama asiatici. Oggi voglio consigliarvi due drama e due film che potete trovare su Rama Oriental Fansub. Rama Oriental Fansub, come vi avevo già anticipato, è un sito completamente gratuito che alloggia all'interno di forum free. I drama presenti all'interno di questo meraviglioso sito sono oltre 750, tutti sottotitolati in italiano da un gruppo di ragazze e ragazzi che mettono a disposizione la loro passione e la loro abilità nelle lingue per dare a noi un sacco di drama subati. Ogni mese ne escono a decine e i drama conclusi solo nel 2022 erano oltre 320. Il catalogo quindi è davvero molto ampio e per poter accedere non dovete fare assolutamente niente. Volendo potete registrarvi al sito, ma adesso non è necessario, quindi potete guardare gratuitamente una marea di drama e di film. I due drama e i due film che vi consiglierò oggi non si trovano da nessun'altra parte se non su Rama Oriental Fansub e sono veramente delle chicche imperdibili. Il primo di cui parliamo oggi è un drama romantico che si intitola She Will Never Know. È una storia d'amore meravigliosa ambientata in un ufficio. È composto da 16 episodi da circa un'ora. Il suo protagonista principale è Rowan, che all'interno del mondo dei drama e del K-pop è davvero molto conosciuto. Questa storia d'amore racconta appunto questo ragazzo che lavora come assistente di una donna un po' più anziana di lui. Per lui è amore già da tanti anni, però lei in realtà ha una relazione con il direttore di questa azienda e lui dovrà cercare di conquistarla portandola via dalle braccia di questo altro uomo. All'interno di questo drama ci sono dei baci meravigliosi e la storia penso sia una delle più romantiche che ho visto. Veramente spruzza amore da tutti i pori questo drama. Quindi questo assolutamente imperdibile, è uno dei miei preferiti, poi anche per il protagonista merita davvero tantissimo. Il secondo drama che vi consiglio oggi si intitola Hating Again. Penso che è un titolo che avete già sentito da qualche parte. Infatti è un remake di un film americano con Zac Efron, ma qui abbiamo un drama che racconta ancora più nel dettaglio questa meravigliosa storia. Anche questo è composto da 16 episodi da circa un'ora. Racconta la storia di questo marito e padre che considera poco la sua famiglia e non si rende conto che lentamente si stanno allontanando da lui. Un giorno esprimerà per caso un desiderio, quello di poter tornare adolescente e lui non si aspetta che questo desiderio diventerà realtà. Ed è così che la mattina dopo si risveglia nel se stesso a 18 anni. Avrà così l'opportunità di diventare amico dei suoi figli, di entrare all'interno della loro vita, di conoscere i loro pensieri e di come stanno affrontando la loro relazione con il padre. E lui farà di tutto per riportarli accanto a sé. Stessa cosa vale per la moglie, perché lui cercherà di riconquistarla in tutti i modi. È un dramma veramente molto bello, molto emozionante e che aiuta a capire e a pensare a tante cose importanti della vita. Bene, è arrivato il momento di consigliarvi due film, perché appunto su Rama Oriental non ci sono solo drama e consigliarvi tutti i 300 disponibili è impossibile, quindi ho dovuto scegliere intanto due drama e due film. Poi ovviamente una volta che entrerete nel mondo di questo forum potrete guardare tutto quello che volete. I due film di oggi sono Decibel, è un film uscito nel 2022 ed è un action thriller molto molto interessante, pieno di suspense e di colpi di scena. Un sottomarino coreano risulta disperso nell'oceano e diversi anni dopo il comandante che era capo di questo sommergibile si ritroverà minacciato da una persona misteriosa che posizionerà bombe in tutta la città e queste bombe esploderanno nel momento in cui i Decibel, appunto, supereranno una certa soglia. Oltre a questi eventi qua c'è anche una storia di fratellanza, di amicizia, c'è veramente tanto all'interno di questo film, è veramente molto molto bello e non va assolutamente perso. E poi il cast, credetemi, è stellare perché abbiamo Lee Jan-Suk, abbiamo Chan Eun-Woo, abbiamo Kim Ra-Won, quindi c'è veramente un cast superlativo. Veniamo all'ultimo consiglio di oggi, il film Ditto, che anche questo ho visto da poco ed è stato veramente bellissimo. Racconta questa particolare amicizia che nasce tra un ragazzo e una ragazza che vivono a vent'anni di distanza. Si conosceranno per caso attraverso una radio amatoriale che durante un'eclissi di luna sarà capace di comunicare attraverso il tempo ed è così che loro diventeranno amici arrivando a confidarsi, a raccontarsi le loro vite e noi contemporaneamente vediamo come scorre la vita di uno e la vita dell'altro. Anche questo film è un remake di uno degli anni 2000, però questa versione mi è piaciuta davvero davvero tanto perché è davvero molto emozionante e quindi ve lo consiglio assolutamente. Come vi dicevo sono veramente tanti i film e i drama che potete trovare su Rama Oriental, quindi non potete che sbizzarrirvi e scegliere i generi che volete di più. Quindi ci vediamo poi al prossimo appuntamento, vi aspetto su TikTok sono jessivernola o su Instagram come kdramaheart. Ciao alla prossima!